Assessore delle luci, Assessore dell'innovazione tecnologica del Comune di Lecce, la tua idea di sviluppo nel Salento in un minuto. Il Salento ha una grande potenzialità, una potenzialità di adattarsi sempre al mercato. Oggi i giovani che hanno questa idea particolare devono sfruttare la loro creatività. Il tema fondamentale sarà l'innovazione. Credo che le pubbliche amministrazioni oggi debbano sviluppare quanto è più possibile la realizzazione di spazi per favorire la creatività giovanile attraverso un sistema di co-working e un sistema di crowdfunding. E' importante che si sviluppino nuove imprese a supporto delle vecchie imprese per rilanciare lo sviluppo del territorio. E questo può nascere non solo attraverso la creazione di spazi ma attraverso una reale e concreta interazione da questi due mondi. Uno anche un poco antico, non pronto al mercato globale e uno dei giovani nativi della rete, pronti a collaborare con il mercato locale per rilanciare il nostro territorio. Pensi che il Salento sia pronto a questo? Penso che il Salento debba essere educato a nuove tecnologie, all'innovazione, ma che il Salento sia sempre pronto a nuove scommesse. Oggi il fattore inverso, i giovani devono indicare la strada.